Si è conclusa la quarta edizione di Farmacista Più, 54 convegni, 16 dei quali curati dalla Federazione degli Ordini Farmacisti Italiani, una sessione plenaria, 300 relatori e una qualità di proposte, di valutazioni che apre la strada ad un rinnovato impegno nella politica federale. Quali sono le sfide? Le sfide sono quelle di trovare lo spazio per portare un contributo concreto, documentato a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale in una logica che faccia più forti i principi della universalità, delle omogenità territoriali e della solidarietà, principi preziosi sotto il profilo valoriale ai quali la professione può dare un contributo importantissimo a partire dal rinnovato impegno sul versante dell'aderenza alle terapie per accompagnare il paziente ad approdi più sicuri sul piano dell'efficacia del trattamento farmacologico ma con la conseguenza anche di ottenere un miglior governo della spesa. Per fare questo ci vuole un costante adeguamento del patrimonio dei saperi, c'è bisogno di università che formi di più e meglio perché il farmacista possa palpitare all'unisono con un mondo che cambia soprattutto nella sanità dove aumentano i bisogni, dove le cronicità aumentano e dove le variabili demografiche pongono mille interrogativi. Insomma io credo che siano emerse in modo chiaro e puntuale le proposte che accompagneranno la politica federale di qui in avanti e da quelle proposte noi partiamo per mettere in campo una serie di progetti che restituiscano risposte senz'altro alla nostra comunità ma anche alla classe farmaceutica, per esempio sul versante dell'ingresso dei capitali perché stiamo per approvare in senato una legge, probabilmente entreranno i capitali, ci sarà una svolta epocale e a questa svolta bisogna che i tempi ci trovino pronti, preparati e adeguati alle sfide che contiamo di vincere ancora una volta nel socco di una storia antica che ha ancora molto da dare e da dire alla nostra sanità e alla nostra comunità.